Avanti e indietro. Avanti e indietro. Con cambiamento di gambe. Guarda come lui. Bene. Tre a destra e tre a sinistra. Uno, due, tre. Uno, due, tre. E cambiamo le direzioni in modo libero. Una volta avanti, una volta indietro. Bolso. Bolso. Relaxa, braccia. Lavoriamo con bracci e comi con frusti. Lavoriamo su tocco. Indietro. Bravo. E andiamo con i nostri bracci a saltare su. Usiamo queste indietro. Bene. Laterale. Così. Guarda. Piero. Un, due, tre. Alta velocità. Talonia glutei. Talonia glutei. Bene. Corso in questo modo. Uno, due. Uno, due. Sempre in punti, in punti, in punti. Veloce, veloce. E cambiamo direzione di corpo. Proprio cambiamo. Allunga bene i bracci. E usiamo il nostro corpo per accelerarsi. Uno, due. Guarda. Wow. Uno, due. Uno, due. Yes. Un punto aperto. Non usiamo taloni. Bene. Cambiamo direzione. Laterale. Un punto aperto. Allunga bene i bracci. Bravo. Lavoro. Lavoriamo con tutta piede. Cominciando da taloni. Un punto. Bravo. Così. Lavoro. Allunga, allunga bene i bracci. Con scena avanti. Lo stai a suci, veloce. Sinistra, destra, sinistra. Tu vai? Dai, dai, dai. Bene, vila. Facciamo ruota. Destra, sinistra, avanti. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Leias, dos. Vila, dai. Vila, dai. Vila, dai. Musa. Pravo. A, dai. Guardi oggi. Anas такого, vila, vai rồi. Eig preservei. Lì, 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 bravo Passo un po' pericolo Vedi lì, 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 non cate a direzione Avanti, avanti, dietro Bravo Con scena avanti, tre Uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre Avanti, con scena, solo con scena avanti Solo con scena Provo da lavorare così con braccio Bravo E ancora una volta con scena